Ma sai Nicoletta addirittura io ho visto che integrando le cose, quindi cercando di uscire un po' dal lavoro a compartimenti stagni, la faccenda di affrontare prima le cose che non c'hai voglia di fare o che ti pesano, che non hai proprio voglia, sapendo che sarai rapido, reattivo e che quel tempo li rende, almeno io ho notato, che mi butto più volentieri a dire ma sì dai facciamo questa cosa che devo farla e se vedi che ti viene bene, veloce, che acquisisci senza perdere tempo hai anche un altro approccio secondo me emotivo, mentale, energetico su quello che fai, non è proprio da buttare via.